Cominciamo subito malissimo con questo titolo che ci avete consigliato perché sapevate di fare cosa buona e giusta in tantissimi, con il logo già sgranato. Cioè già tipo risoluzione bassissima. Schifosa. Premi A al gioco, che vuol dire? Comunque ragazzi ha preso voti bassissimi questo, forse è il voto più basso in assoluto quest'anno? E potrebbe essere uno dei candidati al ritorno di giochi d'analisi, ma prima esaminiamolo un po' sopra sopra. Mi volete dire che è peggio di Gollum? Wow, parte così. E ti carica la texture, malissimo, delle texture di un ambiente che definire... Questo sì che ci vorrebbe qua sotto il commento grafica PS2. Perché effettivamente il King Kong per PS2, vabbè diciamo quello per Xbox 360, era molto meglio. Guarda come si alza la polvere anche se faccio un passettino insignificante. Ma perché le istruzioni davanti al personaggio? Ti levi, mettimela più in trasparenza, più laterali, fai tu, ma poi perché trema tutto? Ma infatti sì, cosa succede? Figa! Figa! Uno dice perché fare un gioco su King Kong così? Guarda come rotola. C'è già! La manata però. Perché c'è stato quel lampo allucinante? Cos'è stato? Vabbè vai avanti Raiden! Ma quel lampo? Non lo so cos'è stato, non ho capito nien'ch'io. Prende le pietre... Allora questa è una buona cosa, che prende le rocce e le scaglia con R2. Sì, questa è una cosa alla control, cioè che genera comunque un... Sì, parte la scena col floppy giustamente, perché vogliono farci sentire vecchi. Puoi sperare un attacco in base con X e va bene. Oppure un attacco massiccio con Y. No, l'attacco massiccio è questo, cioè una vomitata. Ma che è? Ma gli alberi davanti? Ma gli alberi veramente davanti? Ma cosa? Ma come? Ma fatemi la trasparenza! Ma Dio mio! Ma così che cazzo ci capì? Ma veramente fate! No dai, non ci posso chiedere! Signori, però c'è modo e modo di fare male i giochi, si possono fare anche molto meno male. Puoi puntare manualmente i nemici azionando, azionando il resto che è in treno. Azioniamo, va bene. E questo andate alle camere e li segui... mamma mia, oh mio dio, ok. Va bene. Blocca LT. E poi blocca. Cioè devi parare le beccate. E poi blocca a fare. Ma poi la parata, madonna, vediamo, rivediamo. Niente, sono morti prima. Senti, andiamo avanti, va? Comunque, veramente una realizzazione così scarna. Il gioco, ragazzi, non è proprio prezzo pieno, però è costato, l'abbiamo acquistato, è costato 37,99. Sì, 40 euro, per niente. Con Y. E Y, boom, ma perché con la testa? C'è stata una testata, questo è fantastico. Ma è il punto del gioco, no? Il punto del gioco e finora fai il bordello nei canni di... Essere un gorilla nella cosa. Esatto. Mamma mia, per cortesia. Perché succede tutto ciò? Ma sali, ma cretino di Hong Kong, cretino. Un scatto, dai. Eh, ma lo faccio da mezz'ora, non è che sono andato ieri, però... Ma si, mettiamo... Ma non levi... Non levi... Ti levi queste istruzioni da davanti! Ma se c'è le istruzioni davanti che coprono il gioco, ma... Oh, ragazzi, fa bestermiare tantissimo. Io giuro, mi sto trattenendo moltissimo, però vi prego, bestermiate voi per me, non qui sotto nei commenti. A casa vostra. La telecamera è per i fatti suoi. Comunque è interessante questo tipo di nemico, già. Ma poi sono... Esatto, sti galline qua. Una specie di minuscoli cose che si confondono con l'ambiente. Puoi usare tecniche per causare estordimento. Usa LB al momento giusto quando si attacca. Ah, c'è il perry? Mi c'è il perry. No, è una sorta di... Sì, perry, contrattacco. Sì, vabbè, che puoi il perry un po'. Perché lui accorre lentissimo. Lui, lei, quello che... Non ho capito, beh, forse è una femmina. Sì, dovrebbe essere. Salta, questa telecamera che tremicchia. Eh, vabbè, vabbè, vabbè. Vedi, quando salta, ma anche quando non salta, lui sembra totalmente avulso rispetto al contesto. Va bene, l'abbiamo capito, vabbè, è peggio di Gollum. Ma guarda che è molto peggio di Gollum. Anche se in Gollum già saremmo morti a questo punto. Sì, infatti. Se hai subito infortuni, se prendi questi medicinali, fiori medicinali... E tra l'altro in Gollum già altri 4-5 bug ci sarebbero stati. Questo come li apprendi. Sì, l'ho visto. Con quale mancanza di rispetto per la natura? La stessa mancanza di rispetto che hanno riposto questi sviluppatori in questo titolo. Ma posso dire, quel clone di Uncharted che aveva fatto che il ragazzo turco che poi ci ha contattato e ci ha dato pure... Ma molto meglio. Mamma mia! Siamo a un passo dal rompere il controller e non lo rompo soltanto perché è l'Elite Pro e quindi dice... Ecco, vediamo. Ma che nemico è? Un unicorno? Che è? Vabbè, vabbè, afferra. Cos'è su? Ma se non si vede niente! Ma se ci sono gli alberi davanti, figa! No, forse è buono, non ho capito. Ma poi guarda, non subisce per nulla i colpi. Non c'è feedback. Non c'è alcun feedback. Ma per capire bene dove sono i nemici piccoli devi guardare dalla... Ma che i fulmini che cadono qua? Sono fulmini oppure in realtà... Ma tu mi sei sponato sto nemico? No, secondo me sponano da nulla, eh. Perché Skull Island, no? Cioè cerca di riprendere anche proprio il King Kong ufficiale. Kong può usare alcune abilità in combattimento. Perché adesso le istruzioni sono così? Sarà che man mano le hanno programmate meglio? Così, lo sta usando, vedi? Sì, bravo. Ah, dai dai dai, c'è qua. Sei proprio Calleran primordiale. I nemici che vanno in trasparenza. Ma l'effetto tipo sott'acqua? Esatto, i nemici che vanno in trasparenza come onda d'urto. Vedi, quando sono rossi, prendi i retti e li prendi. Eh, ho capito e li prendi. Ma se c'è l'albero del Cristo però... Via qua. È assurdo. È morto o no? Sì, perché sei conficcato, sei conficcato. Abbiamo sbloccato un obiettivo. Io adesso quindi dovrò portare per tutta la vita questa vergogna di aver sbloccato un obiettivo in Kong. Andiamo, va, sempre queste rosce così ben designate per questo progetto. Però adesso hai la scelta, destra o sinistra? Ma si, cazzi. Guarda, guarda, come non subisci i colpi. Ma poi trema tutto. Beh, RT, vai, prego. L'ho preso. Mio Dio, com'è fatta male l'animazione. A questo punto io farei la serie completa così almeno recuperiamo i soldi che abbiamo speso. Ma cosa... Ma dove va? Attenzione, stavo facendo l'attacco super... Ma vai... Ma parati Raiden! Sì, canaparola. Via qua, via qua, te prendo, via qua. T'ho preso. I fettisonori spettacolari tra l'altro. Ma come gli ho avuto in mente di fare una simile cagata? Ma non si vergognano? Ma perché hanno pensato va bene così? Cioè a che punto della loro vita si sono sentiti realizzati facendo questa schifezza? Fai la special... È la special, la sto facendo ma... Mi sai che stai morendo Raiden? Ho capito, è morto finalmente sta coglione de gong qua. No, non è morto, aspetta. Ah, il furore, furore. Dai quando sono rossi li puoi ammazzare, si infilano dentro le montagne. Sì, è il vizio dei dinosauri che si compenetrano da sempre, si sono estinti per questo, ricordiamo ragazzi. Si compenetravano dentro le... questo per esempio... Ma era vivo ancora? Sì, ma è dentro l'albero. Cioè devi interpretare... FIGA, FIGA, FIGA! Odio la vita dopo aver giocato a questo... Cosa ha fatto? Va bene, la fisicità delle rocce non esiste. È soltanto un limite più o meno valicabile. Ragazzi, sto avendo serie difficoltà a procedere. È veramente la cosa più brutta che abbia mai visto quest'anno. Mai visto quest'anno. Cioè non pensavo di poter superare Gollum. Ma anche della Stop, ti ricordi? Lo supera. E supera tutto. Oddio, non lo so Raiden. Secondo me sì, perché quello comunque almeno era una cosa, una sorta di parodia, poi l'hanno rimosso. E poi quello costava 10 euro. Questo ne costa 35. Non dovete andare a sinistra. Ma secondo me devo andare a restituire il gioco a Microsoft in questo caso, che non è di Microsoft ovviamente, ma l'abbiamo acquistato su Xbox perché costa meno. Costava un po' di meno, sì. Qualche euro meno. Scusate se vogliamo risparmiare con questo gioco. Che vuol dire? Ma che cazzo? Vediamo. Comunque ottime texture. Vai. Così. Ah wow. Ok. Sbagliavo tasto io. Ok, stavolta eh. Ma tu sempre rblb. Ma perché ci metto pure del mio. Quando ho a che fare con giochi brutti, gioco brutto pure io. Capito? Che queste insenature che fanno pensare che ci sia qualcosa. Balzo. Il balzo della fete. Della fete. Fete veramente questo gioco. Sta fetendo. Per seguire un balzo di ripenuto LT e poi tieni premuto A. E guarda, guarda, c'è il coso. Ma non esiste. Tipo granata, vai. Non esiste, ma fammelo fare diretto. Non è che... Ti devi mettere più in pizza. Vai, vai, vai. Qua sì. No. Il fulmine nel frattempo. Ma perché certe volte fammelo prendi? Il fulmine che è veramente tutto tranne che un fulmine. Comunque anche a livello di... Di tutto. Si, di trattenimento. È divertente come un calcio sulle gentili. Una ragate. Eh, Raiden devi arrampicarti nei goti. Dove vai? Non cadere. Devi arrampicarti qua a destra. Ha ragione, sì. Mi sono dato lo slancio di troppo, eh. Anzi, la mobilità laterale non è neanche male. L'arrampicata non ha un'animazione proprio molto credibile. Durante le arrampicate... Lei, tutto sommato, non è neanche bruttissima. Lei è l'uno. Ma che sto io dire? A me mi pare una scimmia. Ti ricordi quella pubblicità del crotino? Sì, sì. Eh, andiamo, va. Scindi. Cosa? Niente, deve scendere come dice lei. Va bene. Sali, sali. Mi raccomanda, la lava si può spaccare. Spacca tutto. Ah, madonna. Ci stai prendendo gusto, Raiden. Lì non c'è nulla. Perché dovrei andare? E invece? E invece? Ma anche perché ci sono collezionabili in questo gioco, no? Ma anche se ci fosse non li collezionerei. Ma una cosa, quanto è brutto il level design? Cioè da 1 a 10. Possiamo fare da 1 a 100? Ma sembra la cosa meno... Cioè perché io dovrei fare questo? Soltanto perché abbiamo un canale YouTube e speriamo di farci le views. Questo è l'unica cosa. Come l'hanno fatto tutti i colleghi, ragazzi. Non diciamoci fesseria. È per questo. E va bene così. Allora, io vorrei chiedere a voi. Qualcuno ha comprato volontariamente questo gioco? Ma qualcuno è vero... Cosa... Cosa fa? Ma questa è la mossa della sega a turbina proprio. Cosa? Si è sospeso per aria quello là. Ma poi guarda, non li prende i colpi. Non li subisce. Li subisce solo perché sappiamo che li subisce. Ma figa. Niente, sta ruttando. Che ha fatto? Ma dove è scomposto? Dove sono andato? Sì, ma voglio dire, ma c'è un punto. Alla fine il gioco consiste in questo. Mangiare fiori a non finire? E niente. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo con il fetore che fa questo gioco di merda. Mosse epiche, come schiaccia al suolo, devi solo fare un salto in aria e utilizzare le bi per eseguire. Che non è quello che ho fatto finora. Non si confonde uno. Non è quello che ho fatto finora, santo il cielo. Devi arrampicarti qua sopra. Ma gli alberi me ne levate da davanti agli occhi? Sembra... Sembra a me quando guardo il cielo azzurro perché ho le miodesopsie. Va bene, ma almeno nei videogiochi non vorrei soffrirla, sta cosa. Più che altro è la base totale dei videogiochi, cioè nascondere le cose che si mettono davanti. No, perché così è più realistico. Attenzione! Ah, abbiamo un boss? Forse arriviamo alla boss fight. C'è pure un bimbo, attenzione. C'è un bimbo di gorilla. Ho capito, ma vai, difendi? Guarda che epicità, Midra. Mamma mia! Mamma mia! Non posso reggere questa epicità. No, raga, è mo... No, va bene. No, un colpo di coda ed è morto. E il bimbo? Non ci posso credere. Il bimbo da solo. Guarda il bimbo. Guarda, guarda, la pianto. Sembra pure un gorilla che recita male. Sì. Stava fingendo di piani. Lui ora si incazza arruttato fortissimo. Allora, si chiama Go, ogni volta che vedi questa luce... Quale? Quando fai... Ho capito. Il fatto è che tanto da fare è difficile. Ah, ma è tipo... tipo Dark Souls, vedi? Vediamo, vai. Ma se io vado avanti, va dietro? Ma che p***a? Ma ragazzi, ma p***a però. Ma la p***a, veramente? Ma veramente? Ma poi guarda, l'animazione del... Eh, vedi? Si vede tipo il contorno nero. Sì, il contorno nero, sì. Ma senti, ma ammazzamelo per cortesia. Ma magnatelo per fare, non me lo riportare più. Ah, questa è la scena più bella di tutto il gioco, ragazzi. Oh, grande. Bambino, fottiti. E questo è il destino che ti spetta. Madonna. Ma lo sai che forse doveva andare così? Perché noi in realtà siamo lui. Ah. Quella è la mamma e quello è il papà, capito? Allora il gioco fa uno 0,1% meno schifo o più schifo perché in realtà è un canovaccio già visto trito e ritrito. È scomparso non tra l'erba, ma dentro l'erba. Sì. Incredibile, top. Il gioco più bello di sempre. Allora, ragazzi, chiaramente noi siamo sempre in questi casi alla vostra mercè. È il caso di dirlo qualora vogliate che continuassimo questo gioco qui sul canale. Di poco, ma è peggio di Colum. Ciao. Alla prossima. Aspetto ai cambiati. Ciao. 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 Ciao.